Luca Palazzotto, quali sono le principali novità che si prevedono quest'anno per quanto riguarda i servizi del Carnevale, un incarico che svolgerà la sua società? Sì, noi siamo stati affidatari dei servizi da parte del Comune di Sciacca e dell'Amministrazione, abbiamo sposato in pieno quella che è la filosofia di quest'anno della manifestazione e dei servizi annessi, cioè in particolar modo quello relativo alle aree commerciali e allestimento delle aree commerciali. Infatti, come la stessa amministrazione ha scritto sul bando, allestiremo le aree sotto forma di gazebi, non ci saranno altre forme di stand commerciali, questo per dare anche un'immagine di manifestazione cittadina organizzata e omogenea. È un evento che noi riteniamo essere molto rilevante e fondamentale anche per dare un'immagine del nostro Carnevale più sistemata, più pulita e più organica. I gazebi saranno tutti concentrati in aree ben definite, quindi non distribuiti lungo il percorso? Sì, distribuiti lungo il percorso ma in aree definite. Le aree sono più o meno quelle storiche di Piazza Manigliano Rossi, Via Incisa, Piazza Carmine e Via della Vittoria. Quindi, lungo tutta la sfilata dei carri, in modo da mettere nelle migliori condizioni possibili i commercianti che partecipano alla nostra manifestazione, ma anche gli avventori per poter gustare quelle che sono le prelibatezze tipiche del Carnevale e non. Perché speriamo, anche in questo settore, di portare qualche novità. Ci può anticipare qualcosa a questo proposito? Perché le stavo per chiedere se ci sono delle novità rispetto all'impostazione che è stata data negli anni passati per l'organizzazione dei servizi? L'organizzazione dei servizi è quella prevista dal bando. Il bando di quest'anno è un bando bello corposo e cospicuo. Noi ci stiamo facendo carico di tutte quelle che sono state le richieste fondamentali a servizio del Carnevale. Vedi Gru per montaggio e smontaggio carri, ma anche per l'allocazione di Peppe Nappa per il rogo finale, così come per il palco e la sua direzione. Logicamente noi cercheremo di apportare il nostro know-how derivante dalle manifestazioni che organizziamo tutto l'anno. abbiamo anche una serie di standisti e commercianti che ci seguono affettuosamente perché si trovano bene con noi e contiamo di avere una presenza più cospicua rispetto agli anni passati anche di attività saccensi che partecipano all'ara commerciale. Quindi un maggiore connubio tra il cibo e il Carnevale? Sì, logicamente quello del cibo è il know-how che noi ci portiamo dietro perché con lo street food fest facciamo questo. Cerchiamo di amalgamare quello che è il cibo tipico siciliano, le prelibatezze che sia la gente di Sciacca ma anche i turisti che vengono si aspettano di trovare con quello che è la bellezza artistica della manifestazione del Carnevale Saccenze. Per quanto riguarda lo spettacolo sappiamo dell'allestimento di un palco anche in piazza Saverio Friscia quindi all'inizio della sfilata ci sarà già la possibilità di avere un assaggio dello spettacolo e quindi dell'esibizione dei gruppi? Sì, in accordo con l'amministrazione e con l'assessore Bellanca abbiamo previsto proprio l'ubicazione di questo palchetto all'inizio della manifestazione a supporto dell'inizio sfilata e a supporto dei carri anche perché abbiamo identificato quella come un'area di grande affluenza turistica che logicamente si concentrano nel vedere i carri quindi dare un supporto, spiegare le allegorie in quel punto ci sembrava essere necessario anche per poter meglio supportare quello che è l'avventura che viene da fuori. Per concludere tutto il gruppo di Ridi che ti passa si occuperà della conduzione già il quarto anno sappiamo della presenza anche di Valeria Altobelli, ci saranno anche altri personaggi del mondo dello spettacolo? Sa moltissimo, vedo che è informatissimo dei fatti sì, il gruppo di Ridi che ti passa è un gruppo ormai consolidato che ci dà sicurezze professionali per quanto riguarda la presentazione sul palco Valeria Altobelli ormai è una fedelissima del Carnevale di Sciacca apprezza insomma quello che è la festa, l'allegoria, la parte artistica della manifestazione quindi chiamata viene sempre con molto piacere stiamo lavorando per un'eventuale ulteriore implementazione di special guest all'interno del palco mi preme anche dire che insomma stiamo cercando di portare e di organizzare la manifestazione in diversi aspetti, anche aspetti che sugli anni passati non si è trovato una quadra come per esempio il famoso CD degli Inni di Carnevale che quest'anno dovremmo riuscire a far uscire con il logo ufficiale della manifestazione quindi riuscire a editare un CD ufficiale della manifestazione a cui fanno parte sia i carristi che gli scrittori e gli inni quindi tutti gli artefici degli inni del Carnevale e questo per noi è un motivo di vanto